Vito Palmieri, regista e sceneggiatore della seconda vita in concorso al B-Fest. Innanzitutto ben trovato, è un piacere ritrovarti su CineMio. Senti, ci racconti com'è nata l'idea di questo film, che ha un tema appunto molto particolare, la voglia di avere una seconda opportunità nella vita, che da noi in Italia non è poi tanto facile. Beh, nasce grazie a un percorso di lezioni di cinema che ho tenuto in carcere a Bologna. Questo mi ha permesso di avere un contatto diretto con i detenuti, di parlare, di confrontarmi su tematiche a loro molto personali anche. Sono venuti fuori dei racconti che riguardavano più il futuro. Cosa avrebbero fatto una volta usciti da lì? Però ecco, si parla sì di un reintegro sociale e lavorativo, ma specialmente, e quello è stato un po' una mia chiave di racconto, un tornare a recuperare i legami affettivi e averne di nuovi. Infatti le domande che la storia pone sono, può una persona, dopo aver scontato una pena di tanti anni, avere una vita normale dopo il carcere? Può una persona, in questo caso una donna, come nel mio film, innamorarsi nuovamente? Quindi ecco, abbiamo lavorato molto sul tema delle emozioni. Senti, e per quanto riguarda i protagonisti, Giovanni Anzaldo e Marianna Fontana, come li hai scelti e come hai lavorato con loro poi per appunto creare questo rapporto sul set? Come li hai scelti? Marianna Fontana perché, insomma, ha apprezzato i suoi film e mi sembrava anche l'attrice giusta per interpretare questo ruolo che ha una doppia personalità, nel senso che lei lotta con il suo passato da cui non riesce a liberarsi e viene fuori attraverso proprio i suoi sguardi, i suoi silenzi, le sue espressioni. Quindi ha dei momenti nel film in cui è molto dura, visto il suo passato oscuro e difficile, ma ha anche nel film dei momenti molto delicati in cui appunto lei prova a rinascere, ad avere una vita normale. Quindi, insomma, l'ho pensato a lei per questo motivo. Mentre Giovanni Anzaldo, perché anche lui seguivo da tempo, è un attore che ho apprezzato tutti i suoi lavori, e quindi, insomma, nel momento in cui io cercavo un introverso, un timido, ma che, insomma, facesse anche un lavoro molto, insomma, artigianale. Lui è un fabbro nel film, deve riparare una campana. E anche lì ho giocato su un doppio aspetto, cioè fisicamente, sembra una persona molto sicura di sé, ma in realtà poi nel film scopriamo che è una persona timida, incapace di fare delle scelte, introversa, e quindi mi sono sembrati giusti anche da vederli insieme. Ecco, questi due introversi, chi per un modo, chi per un altro, ma che comunque si trovano e si compensano e riescono insieme a provare ad avere una seconda vita. Hai avuto difficoltà sia per trovare, appunto, nella preparazione del film, sia sul set, oppure ci sono aneddoti che vuoi raccontarci? Difficoltà con chi? Produttive, difficoltà nell'organizzazione. Ma allora, difficoltà non ce ne sono state tante, anche perché sì, questo è un film con un tema forte, che è appunto l'integrazione dopo il carcere, ma è anche, ho provato a girarlo con una regia semplice, essenziale, minimale, e che fa parte anche un po' del mio linguaggio nei lavori precedenti. Lavoro molto su... racconto le storie sempre con uno sguardo intimista, e quindi di solito, appunto, facendo una buona preparazione, sia con gli attori che con i reparti di una troupe, molto spesso, insomma, si evitano degli imprevisti. C'è stata una scena in particolare molto difficile, non posso dire quale, però, è girata nel mare di notte, a fine ottobre, in cui simulavamo l'estate. Ecco, forse quella è stata una delle scene un po' più difficili da realizzare, perché comunque pensavo a questi attori che dovevano ripetere varie volte la scena in piena notte, a fine ottobre, non era né il clima giusto, né anche l'orario giusto, ecco, per girare. Però, da sceneggiatura, appunto, serviva una scena notturna al mare, quindi ecco, la scena più complessa è stata forse quella lì. Va bene, grazie mille. 4 aprile, la seconda vita al cinema, giusto? Ok, grazie. Grazie.